Perché siamo stanchi, siamo stanchi di sentirci, ma non solo noi, i cittadini fuori, perché poi il problema è che i cittadini fuori arrivano delle informazioni come quella del taglio dell'IRAP fatto durante il decreto DL66 che poi è stato eliminato dalla stabilità. In Commissione si parlava di eliminare totalmente l'IRAP, che avrebbero fatto qualche misura al Senato. Cosa hanno fatto al Senato? Hanno messo 12 milioni di euro, cioè 12 milioni di euro sono niente. Noi abbiamo presentato un emendamento per abrogare totalmente l'IRAP da 2,3 miliardi di euro, due emendamenti da 2,3 miliardi di euro che continuano a bocciarci. Ci sono gli imprenditori che si suicidano e noi non possiamo stare fermi a lavorare sulle norme visto che c'è questo atteggiamento da parte del Governo.